Mezzo chilo di carne di maiale, 5-6 fette di pan carré, 50 grammi di pan grattato, mezza tazza di latte, 60 grammi di grana grattugiato, peperone dolce crusco macinato, chiaino di sale, qualche foglia di basilico, 5-6 foglie di lattuga fresca, una cipolla, due patate piccole e uno spicchio di aglio. Grazie a tutti.